ma vada vada via il culo zitta borreto di juventus parli come uno del bene domateci per un abiti a sora tu sei nata a napolo però non parla napoletana si d'arpina e tanti sono nata a napolo in zona da sora mi spiega per te mattina si crea la casa alpina la casa alpina però noi abbiamo già alpina ragazzo i datro a casa alpina i miei i miei nonni hanno abitato sempre alpino con i miei bisnonni nessuno abitano mai a napoli insonato vabbè è diverso ho preso il suo posto del video ci fai un video su questo sì tolgello registrato modo il suo registro e m foto e allora aspetteremo il tuo segno sa era per spiegarlo in modo semplice le figlie sono liberi vinghi prigione facciamo uno dall'altro ok vai io vado a sinistra oh giusta gente porca paletta oh cacchio no no il fuoco no oh dio come è morto male ahia oddio l'ho così buttato giù siiii mi fuggato ahia l'ho buttato tutte e due giù ok uno liberato no il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco oddio ok questo è liberato l'hai liberato aspetta ammazzò ancora così qua oh sanguinari prigionieri dovevo liberarli casco no 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 vabbè io credo che devo andare sopra dove cominciata sopra la torre eh io giusto io sono solito sulla torre ah Ma quale torre stai di tu? Dov'ha? Ah ma sei qua! Siv. Razziatore! La conoscevo bene. Non sapevo che eri tu! Ehi, maronna che voce che c'è questa? Con calma. Non so, non, il bello è l'espressione, non si vede che vuoi urla, poi parla ormai l'altro. Non vedo che sei tu! Con calma. No ma la ho di fatto. Quando mi svegli. La ho di fatto con le animazioni di San Marco. Sì. Che dobbiamo fare? No! No, aspetta, aspetta, aspetta! Io stavo morì, guarda, guarda, guarda! Eh, quanto stai? No, risali, risali, risali! Eh, non posso risalire dopo il giro. Ok. Tazzicchia la... alla catena. Beh... Dove dov'è andare? Eh, là dove sta segnato il... Cosa? Ok. Che dobbiamo fa'? Ah. Andiamo a quals'ora. Iniziava il vero scontro. Mmm, interessante. Oh. Piano piano. Eh, quanti. Eh. Non ci sto capendo niente. No, è un casino qua in mezzo. Aspetta che voglio fare un po' di massacro di minion. No, è un casino qua in mezzo. Oh, mi sta... Oh, caccavalina. Bellissimo. Io non ho ammazzato un minion. Non è giusto. Io li so ammazzato solo il minion. Violenta. Beh... Vabbè. Complimenti, è ammazzato un minion. Eh. Con violenza però. Cinco punti in più. Sì, eh, che... Ma arrivo. Ah, ma questo è il boss. Boss. Ti calmo. Ma come la devi chiamare a bossa? Sì. Ma tipo, ti stavano ad accettare che ero il collo. Eccola. Ma non tu cavolo si c'è. Che ci fa tu in mezzo ai sanguinari? Ma l'immortaggio di la bocca. Ah, rispostaccia. Sai comunque cosa ti la vuole più che la bocca. Sì. Come? Porco Dio, l'urroo. Sì, va bene, va bene. C'è una madonna. Eh, ah, con me la te. Chi sa... Ah, ci sa pure gli Adarred, eh. Ah. Sì. Oh, l'ho ucciso. Aspetta. Allora, dai. Allora, l'ho animato, ok. Dai, ragazzi. Eh, vabbè. Mi butto dentro per terra. Non muore. Oh, ma come che cavolo l'ha fatta a ammazzà? È morto. La nostra gente è legata dal sangue. Era una pazza. E noi eravamo di nuovo miti. Ma sta cosa solo a te. Era tempo di liberare gli altri sanguinari. Sembrano ubriachi. Stiganger. Sì. Perché ci hai messo tanto? Sai quanti vichinghi ce l'hanno con te? Ma tipo, quando hanno giunto personaggi nuovi, tipo il centurione là, non ci hanno messo la storia in più, no? No, non sai, no. Grazie. Eba, stavo qui. Ho fatto solo DLC, non lo so. Non deludermi, Jarl. Snatic. Comunque, sono arrivati terzi, Abex. Sì, al torno di Abex, sì. Ah, comunque, Abex me la riscarichavo tutto. E io oggi mi scarico... Che peccato. E oggi mi scarico, try out, try, se in che domani si gioco, quindi non lo so, quando non ergo fuori. Allora, tutta qua gente! Grazie a tutti.